un film transumanista amici di comedon kishot ben ritrovati con il tecno ribelle puntata numero 41 terza stagione hollywood lava più bianco così candido e lindo che tra effetti speciali e narrazione strappa lacrime in un'orgia di sfavillanti colori tropicali e miti archetipici nemmeno ci si accorge dell'anima transumanista sdoganata al cinema in un evidente parallelismo non casuale da una parte l'ombra dell'agenda 2030 con i nodi obiettivi di sviluppo sostenibile dall'altro il futuribile post umano nell'anno 2145 criosonno come la crionica dell'alcor life extension foundation quindi genoma sinapsi neuroni e modifica del dna dopo gli esperimenti di editing genetico della tecno nano medicina ai nanomateriali e poi l'immortalità liquida tra robot acefali e trasduzione del segnale per avatar connessi in realtà virtuale proprio come nel metaverso di zuckerberg vita nuova con avatar oltre l'uomo è tutto alla rovescia e lì fuori il mondo vero e qui dentro è il sogno fa dire james cameron nella trasposizione transumana con la via dell'acqua il ritorno in sala 13 anni dopo con altre tre puntate programmate fino al 2028 per un vero e proprio capolavoro di inganni e mistificazione per infilarsi nell'immaginario collettivo sotto traccia blu sono gli indigili navi come blu l'indu vishnu protettrice del dharma come blu pure krishna la luce della bhagavat ghita nella tavica lotta tra il bene e il male in favore ovviamente del bene l'ambientazione e poi a metà tra la mitica atlantide e il mondo nascosto di agarti in mezzo a piume di variopinti uccelli cari agli sciamani e le portentose eliane della mazzonica ayahuasca come l'infa vitale nel batria ramung nel film riadattate nell'albero delle anime l'essere più sacro nella primordiale pandora dove l'umano non può respirare e il prezioso cristallo ferroso un optanium è la soluzione ai problemi energetici della terra i veri nemici sono gli umani titolo all'espresso con le ultime parole del regista degli oscar su cui invece del neo ecologismo alla greta di soros aleggia l'eco delle nazioni unite 2030 cambiamenti climatici transizione digitale e missioni nello spazio tra marte e la luna tutto è iniziato perché volevo ribaltare lo stereotipo dell'invasione aliena con cui siamo cresciuti chiosa cameron tutto chiaro ancora no o forse è meglio quelle parole di gian carlo elio valori non un regista per film ma l'ex presidente di autostrade tessera p2 finito tra i nomi della possibile loggia ungheria l'esplorazione dello spazio lo sfruttamento degli asteroidi non solo sono una certezza ma anche un'ipotesi di pace le ultime risorse della terra giacciono infatti in eurasia per cui capirete bene la gravità della situazione e poi si cercherà di ipotizzare i sistemi che in un prossimo futuro potrebbero consentire alla razza umana di spingersi oltre nello spazio non solo per ragioni di mera conoscenza o vano pionierismo bensì per cercare risorse necessarie al pianeta e ancora ci si rende conto che la questione di mandare astronauti attraverso il vuoto può avere una soluzione indirizzata prettamente all'aspetto transumano del viaggiatore in alcuni circoli si parla del programma umano 2.0 perché la natura di questa presunta tecnologia utilizza la fusione di cellule umane con strutture biochimiche sintetiche onde creare un nuovo corpo alimentato dal cervello conservato di un individuo il cervello può vivere senza un corpo ma quest'ultimo non può vivere senza il suo cervello perché la semplice nozione che è alla base del programma umano 2.0 è l'obiettivo di creare una protesi un corpo sostitutivo che possa ospitare il cervello di un donatore il processo di controllo per l'umano 2.0 è estremamente elevato per ora si hanno solo materiali sintetici disponibili per questo programma si avrà poi una svolta nella tecnologia dei nanomateriali e infine a chiudere sempre valori scrive fattore molto importante è l'atto della respirazione determinante per il cervello questa deve essere una di quelle caratteristiche incorporate per aiutare un senso di familiarità per se stessi e per gli umani l'effetto respirazione sarà dovuto da un meccanismo all'interno del corpo sintetico adesso vi è tutto chiaro stanato james cameron riavvolgi il nastro perché se per tutti il tuo genere fantascientifico per alcuni circoli illuminati si tratta invece di plagio un senso di familiarità transumana per un programma già scritto aldus axley del nuovo mondo insegna in fondo anche lui il fratello julien fondatore del vvf primo direttore dell'unesco già sapevano tutto per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a stop 5g salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.asisana.com appuntamento alla prossima puntata del tecno ribelle e un caro saluto a tutti da maurizio martucci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti